Radio si serva signora, solo cose buone. Qualche tempo fa si diceva che con la cultura non si mangia. Allora lo sforzo che si sta facendo un po' in Regione è quello di rileggere la cultura con una chiave diversa. Ci sono un po' alcune parole ricorrenti che ho sentito stasera. Allora l'identità, il senso di appartenenza, la condivisione, lo spazio, la rete, la comunicazione, anche la capacità di fare impresa. Perché se vogliamo uscire da una dimensione conservativa, una lettura conservativa tradizionale della cultura, forse la differenza la fa la capacità di fare impresa con la cultura. Non ho ruolo politico quindi non posso raccontarvi più, diciamo, troppo. Però volevo intanto aggiungere qualche elemento forse di novità rispetto all'uso dei fondi europei. Utilizzando proprio i fondi europei, ancorché della vecchia programmazione, la Regione ha sperimentato la creazione dei Fab Lab. Quindi queste officine, diciamo, digitali, dei laboratori veri e propri, no? Per cui mettono vicino al cacciavite, alla vita, al bullone, diciamo, la strumentazione digitale, innovativa, eccetera. Capitalizzando delle precedenti esperienze proprio sulle imprese culturali e creative. Quindi utilizzando i fondi, diciamo, gestiti direttamente dalla Commissione europea sugli incubatori culturali d'impresa. E quindi siamo partiti con un progetto che si chiamava AIS, che è l'incubatore culturale d'impresa, credo in francese, un acronimo, per un progetto, che è un progetto di capitalizzazione, che era 3C for incubator, quindi le 3C per le imprese culturali e creative, fino ad arrivare alla creazione di questo Fab Lab diffuso. Ad oggi ne abbiamo inaugurati quattro, perché l'obiettivo è crearne almeno uno per ogni provincia. Il primo l'abbiamo creato nell'incubatore culturale di Viterbo, che è il primo nel suo genere, perché, proprio richiamando questa esigenza, diciamo, di specializzazione degli interventi, l'incubatore di Viterbo è il primo incubatore culturale. Quindi è un incubatore di impresa, però, diciamo, dedicato al settore culturale. E abbiamo affiancato un Fab Lab, anche questo specializzato nel settore culturale. Un secondo Fab Lab è a Bracciano, nel settore agroalimentare, perché lì c'è un incubatore, diciamo, molto specializzato in quel settore, quindi l'abbiamo rafforzato con questo laboratorio aggiuntivo. Un altro è a Roma-Casilino. L'ultimo, il 6 novembre, l'abbiamo inaugurato a Latina. Quindi resta fuori Rieti e Frosinone, che però sta nel piano. Sono nel piano. E' chiaro che è stata un'esperienza un po' faticosa, intanto perché il termine inglese spesso non aiuta. E allora Fab Lab, uno non capisce bene che cos'è, no? Quindi è un luogo dove sostanzialmente le idee diventano realtà. è, diciamo, prevalentemente un luogo dove sviluppi e dai concretezza a un'idea, dove, diciamo, prototipi le idee che poi possono diventare impresa. Un dato per tutti. Il primo Fab Lab l'abbiamo avviato a metà di luglio. Ovviamente è aperto a tutti, è gratuito. C'è la possibilità di avere un tutoraggio all'utilizzo delle macchine, quindi non si richiede una grande specializzazione di partenza, perché c'è qualcuno che affianca. da luglio fino alla fine di ottobre erano 850 iscritti, quindi comprese il periodo estivo. E 31 di questi sono diventati imprese, cioè hanno aperto una partita IVA. Può darsi che sia una start-up destinata a morire, può darsi che no, però, diciamo, c'è un tasso di sopravvivenza che non è... Però, diciamo, è una novità. Novità che poi alla fine dipende, diciamo, l'idea da dove la applichi, no? Allora, se sei nel settore dei beni culturali, lo scanner che utilizzi per riprodurre un capitello poi diventa pure lo scanner per fare una protesi dentaria, per esempio. O per fare, sostituire, diciamo, un impianto osseo tradizionale di ceramica piuttosto che titanio con invece un prodotto che viene da una stampante 3D. Insomma, le applicazioni sono veramente tante. Batteri che diventano carta e, insomma, è veramente un mondo molto affascinante. La necessità di fare rete mi sembra una necessità vera. Nella nuova programmazione noi abbiamo riservato uno spazio importante al mondo del cinema e dell'audiovisivo. Ora, sul mondo del cinema e dell'audiovisivo, non pensato, diciamo, come sostegno alle imprese dell'audiovisivo, perché questa è un'esperienza che la regione già fa da almeno 4 anni, ma per, diciamo, favorire le coproduzioni. In Italia le coproduzioni sono forse 9, 10, non di più, e nel Lazio ce ne sono 5. Perché? Allora, c'è anche qua un problema di contaminazione di linguaggi, di esperienze, che, insomma, necessita un salto di qualità. Quindi adesso, dal primo di dicembre, sarà possibile candidare, non candidare, raccogliere le domande, perché il bando già c'è online, quindi si può leggere nei contenuti. Ed è una grande sfida, perché per la prima volta abbiamo provato a mettere insieme, ecco perché la rete, diciamo, le disponibilità della regione, grazie anche al fondo, alla nuova programmazione europea, con le azioni che si stanno facendo a livello nazionale sul tax credit. Per cui, se un'impresa che vuole fare una coproduzione, diciamo, la fa in modo intelligente, riesce ad ottenere sia il vantaggio del tax credit che il vantaggio del sostegno a una coproduzione. Coproduzione europea? Europea, internazionale. Internazionale, anche più ampia? Addirittura, diciamo, più ampia. C'è un po' di problemi, perché, diciamo, la normativa sugli aiuti di Stato, l'esenzione, aiuti alle imprese, è complicato, però, insomma, ce la possiamo fare. E su questo la regione, per esempio, è rientrata dentro la fondazione Phil Commission. Allora, anche qui, Phil Commission di Rieti, magari attivare una collaborazione, perché diventa un momento di visibilità reciproca. Cioè, è quasi uno specchio, no? Allora, avere anche, diciamo, una collocazione all'interno di quello è utile. Abbiamo avviato una mappatura dei luoghi, proprio perché, diciamo, il Lazio è così ricco di bellezze, forse poco conosciute, perché Roma assorbe tutto, e, diciamo, è quasi un buco nero, no? Cannibalizza tutto il resto del territorio. Allora, abbiamo avviato un processo, diciamo, di mappatura delle location pubbliche e private, di modo che il produttore possa, diciamo, avere visibilità dei luoghi, non solo, diciamo, panorami, fondali, palazzi, eccetera, ma di tutto, e contestualmente, perché questa è l'altra gamba che mancava nel ragionamento, delle professioni e dei professionisti. Questo perché? Perché molto spesso girare fuori Roma costa caro. C'è un problema di contrattualistica, con fede e culture, di indennità, eccetera, per cui spesso non si gira fuori nei territori, non perché non siano belli ed attraenti, ma perché costano tanto. Per esempio, già, creare attipolazioni anche del comune. L'ho fatto un paio di volte dando una mano... Dando una mano... E allora, mappare un po', diciamo, le imprese presenti sul territorio, i professionisti, diciamo, disponibili in loco, significa fare meno, diciamo, costi di trasferta, trasloco. Insomma, le azioni ne stiamo facendo tante. Mi fermo qua. Diciamo, quello che per me è stato importante è un po', diciamo, la raccolta un po' dei suggerimenti e delle esigenze perché ti aiutano nella programmazione. Tutto qua. La chiudo perché sennò... Grazie. Grazie. Grazie.